I carabinieri del nucleo antissofisticazioni e sanità di Padova hanno scovato i 350 test rapidi per il Covid-19 indagando tra i rivenditori in internet e nei social network. Questi erano destinati a vari canali di vendita non ufficiali, oltre alla rete, anche negozi e bar e direttamente a cittadini, ma presentavano molte carenze di sicurezza sanitaria. Venivano spacciati come autodiagnostici, cioè che potevano essere utilizzati dal compratore in autonomia, invece devono essere utilizzati in presenza di personale specializzato. Il produttore cinese non risultava registrato al Ministero della Sanità. Le confezioni non avevano il foglietto illustrativo con le istruzioni per l'uso in italiano. I carabinieri invitano tutti, anche in caso di ansia da contagio, a non affidarsi a falsi test venduti in canali non ufficiali. Dispositivi sanitari non affidabili potrebbero dare sentenze pericolosamente sbagliate. I controlli, partiti dall'Alto Vicentino, proseguono. I controlli sono su tutta la giurisdizione, come si stanno verificando su tutto il territorio nazionale, proprio per salvaguardare la salute del cittadino, che in questo momento è la priorità del nostro comando. Grazie a tutti.